Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi, lunedì 6 maggio. Vi ricordo a tutti quanti che questa sera l'appuntamento con Quarta Repubblica. Mi raccomando perché questa sera sarà davvero interessante, abbiamo un sacco di reportage, soprattutto nella parte che riguarda l'immigrazione e la sicurezza nelle città, che va la pena di ascoltare. E poi avremo un'intervista al sindaco, buonanotte, al segretario del PD Zingaretti. Quindi, certo non un trascinatore di folle, oggi mi sembra che, com'è che si chiama, la Rossanda e un'altra, diciamo, di queste specie di cariatidi della vecchia sinistra comunista hanno detto manca un po' di personalità. Boh, non lo so, vedremo questa sera. Cosa è successo sui giornali? Ve lo dico subito. Beh, insomma, questo governo, come sintetizza bene Michele Brambilla, oggi sul Quotidiano Nazionale, nuovo direttore del Quotidiano Nazionale, mi sembra che una sterzata l'ha data al Quotidiano che riguarda quelle zone centrali dell'Italia. Beh, insomma, Michele Brambilla dice che sembra di assistere a Casa Vianella, a Casa Vianello. Insomma, non sembra di stare all'interno di un governo, ma di una lite continua. Allora, i fronti sono tanti. Quello su Siri è quello fondamentale. La cosa più straordinaria è la battuta che in risposta ai malumori del Movimento 5 Stelle sulla questione Siria ha risposto ieri Salvini. Tappatevi la bocca. Shut up. Cioè, una cosa pazzesca. Nel senso che questi, meno male che governano insieme. Di Battista, soltanto pochi giorni prima, aveva detto che la TAV è un'opera inutile, vabbè, apocalittico come sempre, e Salvini non rompa i coglioni. Non so a che fronte lo dica. In realtà, poi, anche sulle tasse c'è un fronte con il Presidente del Consiglio, perché Salvini ha detto che tagliamo il Presidente del Consiglio. All'inizio ha fatto, come tutti i giuristi, facendo finta di non capire che cosa vuol dire tagliare le tasse. Non mi sembra che si possa fare il taglio delle tasse. Poi, dopo due giorni, ha fatto filtrare sui giornali una cosa un po' diversa. Ci sono sui giornali di oggi, cioè le tasse le tagliasse pure, però non faccia soltanto dichiarazioni, ma ci dica come ci sono le coperture. Ecco, questa posizione brunettiana, se volete, o tremontiana, chiamatela come vi pare, è più ragionevole, ma è diversa rispetto a quella prima a colpo caldo. Giorgetti, secondo un retroscena della stampa molto più interessante, dice ragazzi, se avessimo dovuto far cadere il governo, sarebbe stato meglio farlo cadere sulla TAV, quella cosiddetta inutile, aggiungo io, di Di Battista, perché oggi far cadere un governo sul caso Siri, secondo me, è una cosa che non renderebbe molta giustizia al movimento di Salvini. Ma voi ve lo immaginate che cade il governo prima delle elezioni europee sulla crisi di Salvini? Cioè, qualcuno di voi, poi verrò smentito nei prossimi giorni, ma qualcuno di voi veramente può credere che cade il governo sulla questione Siri a 10-15 giorni dalle elezioni? Io non ci posso credere, così come oggi mi sembra che c'è un'analisi di diversi politologi, da Sofia Ventura ad altri interpellati al Corriere della Sera, cosa succederà al governo dopo il 26 di maggio? Insomma, secondo me questa roba qui è ancora prematuro capire che cosa possa avvenire. Nel frattempo, quello che succede è quello che succede sempre tra Gaza e Israele e cioè che dalla striscia di Gaza Hamas e non solo la Jihad lanciano dei missili in Israele, ai confini con Israele e muoiono dei civili israeliani, che però non fanno mai notizia, i quattro morti israeliani ovviamente non fanno notizia, fanno sempre comunque notizia le risposte degli israeliani a Gaza, una volta attaccati dei missili di Hamas ovviamente, però insomma questo è il giornalista unico italiano, questa roba qua la vedete sempre e comunque nella stessa identica maniera. Pignatone fa un'intervista per fine carriera, il procuratore di Roma che ha avuto i dossier più importanti, quelli più favolosi, più interessanti, intervistato oggi secondo me più è un ricambio per le informazioni, i caffè che si sono presi con i giornalisti del Corriere della Sera, sempre molto informati sulle questioni giudiziarie che per i nostri lettori, una pagina intera completamente da appallottolare, interesse nei confronti di quella pagina, zero, zero, io dico una pagina intera, e si fa però, io lo capisco, una pagina intera si dedica a quello che ti ha dedicato tanto tempo nell'interpretazione dei dossier importanti della procura di Roma. Falsi, mi sembra molto più interessante invece questo approfondimento che fa il giornale, addirittura ci apre, 7 follower su 10 di Movimento 5 Stelle, Salvini, politici, cioè i politici sono dei tarocconi su coloro che li seguono, sui like, sembra uno di quei film di fantascienza, cos'è, Broken Window mi sembra, o come cavolo si chiama, che vedevo io da qualche parte, in cui tu pagavi con i like, vivevi in questo mondo ossessionato dai like, oggi non ci sono più, scrive Sallusti, le tessere false, ci sono i like falsi, ma l'uno e l'altro sono, voglio dire, figli di una cultura, dice Truffaldina, che non ci dovrebbe piacere, questo scrive Sallusti oggi sulla prima pagina del giornale, molto interessante questa cosa, dei politici che taroccano i like, Ricolfi oggi sul Messaggero ci dice questa è una scuola che non ha nessuna, non boccia nessuno, non ha severità, insomma l'idea di non avere alle elementari neanche l'unica possibilità che avevano emesse di scrivere una piccola nota che peraltro non è che aveva un grande valore da un punto di vista effettivo, insomma questo rende ridicolo il sistema educativo italiano. Due pagine su Mimmo Lucano di Francesco Merlo, due pagine, Francesco Merlo ci spiega che Mimmo Lucano, i magistrati così lo stanno indagando, ma non vogliono indagarlo, non devono indagarlo, perché Mimmo Lucano, come direbbe Sgarbi e come direbbe Francesco Merlo, è comunque un eroe e quindi, ma troppo non i falsi, il fatto che noi abbiamo speso 27 milioni in 3-4 anni per rendere questa specie di riace, una specie di centro di accoglienza straordinario, io non metto in dubbio la questione giudiziale di riace, non me ne frega niente, quello che sono certo dalle carte, da quello stesso principio che dice Mimmo Lucano è che noi per l'accoglienza a riace abbiamo speso decine di milioni, decine di milioni per riace, questo è il problema, ce ne possiamo permettere questi decine di milioni in una città come quella italiana, in una serie di città come quella italiana, Milano, Napoli, Firenze, Bologna, Padova, soltanto per citare alcune in cui gli immigrati che non stanno a riace, non hanno nessuna assistenza, gli italiani che non stanno a riace, non hanno alcuna assistenza, questo è il punto, evidentemente non è un punto giudiziario ma politico, però è un eroe Mimmo Lucano e non ha accettato la candidatura perché lui non si vuole spostare la sua terra, boh, vedete quando un giornale, ovviamente la destra è sempre in macchina del fango, noi siamo sempre la macchina del fango per Francesco Merlo, la macchina del fango oggi difende contro il parere di tutti quanti Fabio Fazio, a me fa schifo la sua trasmissione, non mi piace, ha un grande successo, non mi piace, un grande successo no, ha un successo, mi piace, però Salvini sbaglia, sbaglia, creare come ha fatto un caso su Fazio è stato una follia, deve imparare, caro Salvini, devi imparare da Renzi, impara da Renzi, l'ho vista io quella roba là, Renzi mi ha fatto fuori venendo la mia trasmissione, venendo a chiudere, tant'è che io l'ultima buttuta che gli faccio, Renzi che fai, chiudi tu la luce, lui dice io non chiudo la luce a nessuno, mi ha fatto fuori lui con quel Minus Abens che era l'amministratore delegato della Rai, il Conte Mascetti, ma Renzi ne è uscito, ah no, figurati se io ho purato nessuno, io non ne puro nessuno e a me mi ha epurato, almeno io parlo per me, per quello che ho vissuto, la Rai di Renzi mi ha fatto terra bruciata e non avevo più collaboratori e non avevo più le serate, mi hanno fatto terra bruciata, chiaro? Terra bruciata, allora questo è il modo di comportarsi di un politico che vuol far male a un giornalista, non quello prima di Berlusconi con quella minchiata dell'editto bulgaro e poi qua di Salvini, non ci vado e non ci vanno i deghisti, mi sta antipatico? Fate come tutti gli altri politici, sono paradossali ovviamente in quello che vi dico, ma vi è chiaro? Chi vuol far male a Fazio non lo dice pubblicamente, lo fa fuori, anche perché per far fuori Fazio, parliamoci chiaro, basta spostarlo da Rai 1 al Rai 3, non è che cambia nulla, dove stava prima? Perché il vero passaggio è stato da Rai 3 al Rai 1 e se io ti metto a Rai 1, il 13% lo fa anche Babbo Natale, chiaro? Chiaro? Ma non è questo il punto, io difendo Fazio, perché non è possibile, non è possibile che un politico alzi il ditino e dica quel politico, quello la guadagna troppo e c'è un contratto, quello non mi piace e mi spiace ma i giornalisti sono così, possono anche non piacerti, caro Renzi, caro Salvini e caro Berlusconi, possono non piacervi, se avete un'azienda me li prendete, se non avete un'azienda è un'azienda pubblica, chiaro? Non è una cosa complicata da capire, tra l'altro lo rendi anche un eroe, rendi quel programma un eroe, rendi il programma di Lucano, di Michele Serra, eccetera, un programma di eroi, chiaro? Mi sembra una cosa folle e quando Fazio verrà, se mai domani non dovesse fare una puntata perché non so, c'ha il cagozzo, sarebbe colpa di Salvini, allora chi ha studiato questa strategia ha sbagliato, non è una strategia, non è una strategia perché non serve tra i giornalisti che non ti sono amici, prima di tutto, ma non è una questione di libertà, è una questione di normale decenza democratica e soprattutto imparasse da Renzi se vuole fare il fenomeno, chiaro? Imparasse da Renzi, le persone si fanno fuori in silenzio, chiaro? Vabbè, evidentemente non del tutto, oggi lo difende ovviamente, poi tutti i giornaloni sono ovviamente con lui, io sono stato fatto fuori e non se ne è accorto nessuno, se non il giornale di cui mi pregiavo di far parte come vice direttore, ma invece per quanto, e anche Claudio Cerasa mi scrisse che era all'epoca molto renziano un errore far fuori Virius, qua invece ovviamente c'è i mezzi, paga tutta la sua combriccoletta di amici, pagava Michele Serra, paga tutti quelli a cui ha portato a fare le loro marchette dei libri, cioè tutto il giro faziano lo difenderà, insomma mi sembra una roba allucinante, anche il tempo si è rotto di Greta, è il titolo più o meno che fanno tempo e libero sulla questione che ora fa un freddo pazzesco e Greta parla di meno, o meglio come la vediamo quest'anno con la temperatura che a maggio è scesa almeno di 2-3 gradi rispetto alle settimane e agli anni scorsi, e il tempo è impazzito, è sempre colpa della CO2, cioè del riscaldamento del pianeta, perché sia chiaro, il problema di Greta e degli altri è la CO2 che non è un inquinante e l'anedride carbonica, troppa l'anedride carbonica, fa la calotta, l'effetto Serra e ci riscaldiamo, evidentemente in questo momento non ci stiamo riscaldando, detto questo i meteorologi non sanno quello che succederà fra 20 giorni, fra un mese sul tempo in Italia, figuratevi un po' voi se sanno quello che verrà fra 100 anni, ma questo è il monto dei gretini, chi voglia vedere altre informazioni ovviamente potrà andare sul sito nicolaporro.it, questa sera chi non vede Quarta Repubblica 9 e 30 è un gretino, ciao!